In questo nuovo video sono Simporiki ed oggi siamo in un nuovo video con Ale2W6 Ciao E siamo in caccia terroristi In chalet, è stato in ostaggio Ragazzi scusatemi se non ho portato molti video ma Per vari motivi da scuola, per prima scuola Ho dovuto studiare Esatto, perché gli altri due video sono andati Boh, facevano schifo E... Vi farò dettaglio ovviamente in questa caccia terroristi E niente, buona visione Minchiasimo Aspetta, Simo ci sono divisi Vabbè basta che... E sta stanza è piena di fili spinati E non c'ho... Senti io faccio... Sto c'ho il filo spinato Fermo Ok No Fermo Ma sto spammare No Sono sbagliato No Fa niente, fa niente Sono sbagliato Ma sto Aspetta, Simo Perfetto raga Scusatemi se non parlo ma sono un po' concentrato C'è molto C'è molto Entrato Raga Contatto visivo con l'ostaggio Dobbiamo recuperare Oh è qua l'ostaggio Non lo sapevo raga Sì ma è andato sopra Dove c'è l'elicottero Non lo so Occhio ci sono gli amici fuori Lo so, lo so, lo so E vabbè Ah no Lì la devi portare Cazzo Ricarica Raga vi giuro che non moriva Fa un giorno Dall'altra parte Raga pochissima vita 22 Dietro Dietro Ma corri Simo Raga non so se la vinco Occhio Oh mio Dio raga Sì raga Lascialo, lascialo Nascondi Vai raga Con uno di vita Bella raga Io ho fatto schifo Ho fatto 3 kill Io non riesco a giocare In caccia Fa niente Raga per questa partita è tutto Noi ci vediamo in un prossimo video Appena mi arriverà lo scaf Cioè tra 9-10 giorni Come ho detto prima Mi sa Anche prima Anche prima esatto Farò molti video su Rainbow Six Siege Su GTA C'ho il colpo da fare C'ho da rifare tutti i colpi Ragazzi se volete Un nuovo video Scrivetemelo nei commenti Noi ci vediamo Raggiungiamo 5 like Per un prossimo video Bella raga Noi ci vediamo Grazie OH soften Viola Ti